Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 27 marzo 2021 siamo nel fine settimana delle palme questa notte bisogna cambiare anche gli orologi perché cambia l'ora insomma ci sono un po di cambiamenti anche dal punto di vista climatico come vedremo tra un istante intanto il santo del giorno che andiamo a vedere con l'aiuto della grafica oggi è san ruperto il sole è sorto alle 6 in punto e tramonterà le 18 e 32 trebimeteo.com dicevamo del weekend delle palme il titolo tra sole e qualche pioggia temperature fino a 18 20 gradi ma addirittura da lunedì l'anticiclone africano garantirà picchi fino a 24 25 gradi insomma possiamo dire di essere davvero vicini o comunque di assaggiare il tempo estivo andiamo a vedere le marche però perché questa mattina vedete soprattutto sul nord della nostra regione provincia di Piesa Rubino avremo qualche piovasco o almeno stando alle previsioni appunto del sito nel pomeriggio ancora piogge lungo la costa pesarese nell'entroterra la sedia invece migliora domani domenica domenica c'è bel tempo sia al mattino pomeriggio un po più nuvoloso ma per il resto insomma direi che a parte qualche ora questa mattina con qualche piovigine per il resto dovremmo ecco soprattutto le temperature aumentare intanto anche questa mattina i giornali chiaramente parlano di coronavirus di covid ma c'è una buona notizia sulla quale andremo un pochettino ad approfondire tra poco una notizia che riguarda la fine di questa pandemia quando finirà siamo in tanti a domandarcelo siamo in tanti a sperare che questa questa pandemia ci lascia il più presto possibile giugno sicuramente giugno lo sono sono d'accordo un po tutti gli esperti anche quelli dell'istituto superiore di sanità a giugno probabilmente arriveremo ad avere quasi zero contagi al giorno quindi potremmo sicuramente trascorrere vacanze più serene anzi c'è già chi invita a prenotare le prossime vacanze anche se poi gli italiani si fidano un poco e vogliono ancora aspettare però insomma prendiamo per buona questa indicazione e quindi da qui ripartiamo anche perché aprile sarà ancora un mese molto difficile vaccini il ristò è un cantiere questo è il titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro al lavoro per preparare la nuova sede l'area vasta ai prenotati c'è lunedì non venite prima delle 8 e 30 quindi è inutile andare lì al mattino alle 7 noi lo vediamo anche qua a Fano insomma ci sono molti che si preparano per non fare le file dopo ma comunque non prima delle 8 e 30 Marche ancora in rosso poi a Quaroli spera nell'arancione dopo Pasqua si torna a scuola ma soprattutto i più piccoli lo potranno fare gli altri dovranno ancora aspettare a proposito di scuola centro pagina due fotografie che riguardano due manifestazioni a Pesaro al campus gli studenti e in piazza del popolo invece gli ambulanti i commercianti e chi gestisce attività soprattutto in proprio doppio sit-in questa è la fotonotizia del Corriere di questa mattina sempre dalla prima pagina qui di spalla si parla ancora di alta velocità il Corriere porta avanti questa sua opera di sensibilizzazione questa campagna anche lodevole e oggi Lorenzo Furlani intervista il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Giorgio Gragnola a proposito dei soldi che ci vorrebbero insomma 100 milioni che poi sono ribassabili fino a 60 per lo studio di fattibilità dell'alta velocità adriatica. La cifra dei marchigiani è la concretezza il passo va fatto secondo la gamba dice Giorgio Gragnola le fondazioni bancarie non hanno risorse per il progetto di fattibilità dell'alta velocità non si possono sprecare fondi lo studio lo deve finanziare rete ferrovie italiane ma serve una decisione strategica dice Gragnola la politica faccia il suo e così appunto parla il presidente con un'intervista a pagina 9 giudice invece reintrega il biologo esodato torni al lavoro stretta per le feste chiuse le aree a rischio pienone e poi si finge un amico poi lo ricatta per i documenti è successo a Fossombrone mentre di taglio basso il sindaco serie a Draghi l'esippo simbolo del G20 l'appello in funzione del vertice di maggio coinvolto anche il ministro Franceschini poi vi ricordo vedete l'ora legale stanotte le lancette degli orologi andranno quelle a muro perché poi gli smartphone fanno tutto da solo ma comunque andranno spostate un'ora avanti quindi poi l'ora solare tornerà il 30 ottobre 2021 ma insomma stanotte un'ora avanti quindi si dorme un'ora di meno in rosso fino a Pasquetta, Pasquetta compresa, titolo del Carlino di Pesaro l'annuncio è di Acquaroli, ancora alta la pressione sugli ospedali ma i contagi in calo danno speranza fotonotizia per gli studenti contro la didattica a distanza categorie senza lavoro, doppia protesta, ridateci il futuro vedete questa è l'immagine grande di Piazza del Popolo poi nel riquadro più piccolo invece il campus ridateci la scuola, ridateci il futuro biologo vince la causa contro l'ospedale tornerà a lavorare il caso di Massimo Valentini poi si allontanò un anziano che si allontanò da una casa di riposo morì a causa del freddo adesso parte l'inchiesta l'odissea di Veris Mosconi invece trova spazio sempre sulla prima del Carlino di oggi due mesi di lotta lui batte il Covid la moglie invece purtroppo muore dopo un intervento poi sempre sul fronte antivirus vaccini a casa tanti medici però di famiglia hanno detto no per lo sport il derby tra Fano e Vis domani una storia infinita e poi WL lunedì a Bologna in palio playoff e salvezza a inizio giugno dunque avremo casi zero ecco lo studio che illumina l'estate siamo sul Carlino di Nazionale il professor Lavecchia che vedete in questa fotografia qua sopra eccolo qua dice i vaccini saranno decisivi per uscire da quest'incubo Brusaferro e Rezza invece dell'Istituto Superiore di Sanità confermano e dicono trascorreremo vacanze serene dunque scrive Alessandro Belardetti sul resto del Carlino di questa mattina alla fine della pandemia beh è un virus chiaramente che non se ne andrà ormai è chiaro dobbiamo conviverci come conviviamo con tutti gli altri coronavirus che prendiamo ma che ci fanno evidentemente meno male di questo però seguendo i dati appunto di un istituto fondato da Bill Gates si può provare a dire che all'inizio di giugno avremo un totale di nuovi casi giornalieri vicino allo zero mentre i decessi in tutta Italia saranno sotto a quota 100 e poi naturalmente in questo articolo troverete tutte le dichiarazioni le dichiarazioni che hanno fatto appunto queste persone che vi ho appena citato è interessante comunque ribadire come il combinato di vaccini e poi naturalmente la bella stagione così come è successo anche la scorsa estate più o meno nel mese di giugno anche se giugno della scorsa estate non essendoci vaccini eravamo arrivati un po' più verso la fine di giugno a quota zero invece adesso diciamo che partiamo con un buon vantaggio rispetto all'anno scorso quindi abbiamo i vaccini il combinato vaccini e bella stagione ci fa sperare nel senso che la circolazione del virus possa essere ridotta e dunque riportata a livelli più controllabili possiamo adottare insomma misure di rilassamento per recuperare maggiori spazi di libertà ovviamente bisogna mantenere le misure e investire soprattutto sulle vaccinazioni possiamo quindi guardare con fiducia dicono all'estate quindi anzi qualcuno invita lo stesso Mario Draghi lo stesso Presidente del Consiglio ha detto sono d'accordo con Garavaglia se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri perché se potessi andare perché ovviamente il Presidente del Consiglio immaginiamo avrà comunque da fare anche durante l'estate e quindi pur potendo farlo non andrà perché resterà al suo posto a lavorare per l'autunno intanto le marche restano rosse per altri dieci giorni se la curva cala ancora speranza di ritornare a Rancioni quindi di vedere soprattutto aperti alcuni locali cosa che oggi invece non è possibile con le restrizioni del Rosso l'annuncio del Governatore Acquaroli fascia con più restrizioni fino dunque a Pasquetta Pasquetta compresa ma i contagi si stanno abbassando l'appello che Acquaroli ha rivolto alla comunità marchigiana è che nonostante la comprensibile esasperazione e le molteplici difficoltà dice Acquaroli continua a raccomandare a tutti la massima attenzione per superare quanto prima questa situazione complicata poi su vaccini dice sono 147.000 marchigiani che hanno ricevuto la prima dose quasi il 10% della popolazione regionale per un totale di più di 230.000 somministrazioni ovvero il 91,3% delle dosi che ci sono state consegnate ipotesi arancione dopo Pasqua il Corriere Adriatico Acquaroli e il rientro a scuola le riaperture vanno valutate la zona rossa va avanti un'altra settimana e proseguirà fino al 6 di aprile il Governatore dice è necessario tornare in classe ma senza sfidare il Covid si sta ragionando anche sullo screening di massa per testare gli studenti l'idea è quella di una didattica a distanza per le scuole medie e le superiori fino al 12 poi tutti in presenza l'indice di contagio RT e rischio in calo continua la discesa verso quota 250 via dal rosso tra 10 e 15 giorni l'incidenza dei casi inflessione da due settimane i ricoveri però sono ancora troppo alti poi c'è la notizia invece sempre dal Corriere che è stata data una onorificenza è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai familiari di Carlo Urbani questa onorificenza l'ha consegnata Mattarella alla vedova del dottor Carlo Urbani che è il medico marchigiano dell'OMS che a Bangkok in Thailandia il 29 marzo del 2003 rimase vittima della SARS la polmonita atipica che aveva contribuito lui stesso ad individuare come nuova patologia sui vaccini siamo sulla pagina 7 del resto del Carlino di Pesaro da lunedì si prenotano i vulnerabili i camici di famiglia i medici di famiglia confronteranno con i propri elenchi chi si iscriverà a domicilio solo se l'utente è davvero impossibilitato a muoversi poi per tutte le informazioni c'è anche un numero verde eccolo qua 800 93 667 che è dell'Asur per i dubbi sul piano vaccinale ma sotto Roberto Damiani questa mattina pubblica pubblica una notizia sul giornale che riguarda sempre i medici di famiglia e che lascia un po' l'amaro in bocca allora intanto chi sono queste due persone questi due medici che il giornale pubblica sono a sinistra la dottoressa Chiara De Angelis di Pesaro e a destra il dottor Gino Genga di Fano entrambi volontari delle vaccinazioni io le difenerei due eroi due straordinarie meravigliose persone e che cosa dice la dottoressa Chiara De Angelis 36 anni medico di base di Pesaro con 1.100 pazienti e ha qualcosa da dire io sono amareggiata dice la dottoressa De Angelis su 100 medici di base nel distretto pesarese quasi la metà si sono rifiutati di vaccinare i loro pazienti più fragili bisognosi impossibilitati a muoversi da casa scaricando l'onere sugli altri che hanno detto sì tra cui io che si sono offerti di vaccinare perché siamo in un momento drammatico ma così non si fa e dice ancora noi siamo tenuti a fare il nostro lavoro in ambulatorio per curare chiaramente i nostri assistiti e nello stesso momento nei ritagli di tempo andare a casa dei pazienti che hanno più di 80 anni che non si muovono appunto per vaccinarli ma di fronte a questo vasto rifiuto dei miei colleghi io mi assumo la responsabilità di vaccinare solo i miei assistiti e non quelli di altri medici che hanno negato l'aiuto i miei pazienti li conosco quelli degli altri no non siamo di fronte al vaccino molto influenzale che lo facciano che lo facciamo in serie qui è importante conoscere l'anamnesi del paziente e quindi essere attenti al suo passato clinico eccetera eccetera come dire io posso anche andare a fare questa puntura ma è bene che ci sia il medico che conosce il paziente che conosce la persona perché deve sapere qual è il suo storico magari capire anche se quel vaccino va bene oppure no quindi ecco e dall'altra parte invece sempre sull'altro fronte questa volta di Fano chi guida la pattuglia diciamo dei volontari fanesi è il dottor Gino Genga 38 anni dice non voglio polemizzare con i colleghi che si sono rifiutati di vaccinare a domicilio gli over 80 so solo che a distanza di circa tre settimane dall'accordo tra regione e medici di base siamo ancora siamo appena partiti con Moderna e AstraZeneca ma stiamo ancora facendo dei test per ottimizzare spostamenti e tempo tenendo conto anche di chi rifiuta AstraZeneca perché cosa succede che nel momento in cui si apre una scatola dove dentro ci sono 11 dosi nel momento in cui si apre questa cosa c'è un tempo un tempo massimo che mi pare sia di qualche ora un paio d'ore quindi che cosa succede che se io vado a casa di Mario Rossi e Mario Rossi vi dice no guarda io non lo voglio fare perché AstraZeneca lo voglio fare quella è come se avesse un tempo di scadenza non è che può star lì lo metto nel frigo e torno domani no da lì deve partire di corsa per trovare un altro paziente che voglia fare questo vaccino e ecco perché si fanno anche dei test dei test per capire perché metti in caso come dice giustamente poi il dottore ho un problema di traffico un problema della macchina cioè rischiamo di buttare via le dosi ora per esempio potrebbe esserci c'è anche la protezione civile che ha gli ampeggianti azzurri potrebbe fare da staffetta visto che comunque sono un paio di inoculazioni al giorno non è che se ne fanno tantissime insomma anche fossero 5-6 immaginate andare in 5-6 abitazioni dopo l'orario ambulatoriale perché non dimentichiamo che questi medici che hanno detto sì prima devono fare l'ambulatorio poi nei ritagli come davvero eroi vanno nelle case ad aiutare queste povere persone che hanno più di 80 anni e che non possono muoversi quindi questa è un po' la situazione quindi si potrebbero aiutare proprio per non sprecare queste dosi anche con qualche staffetta adesso non dico la polizia insomma però ecco qualche non so la butto lì insomma un po' così l'altra pagina invece pagina 8 del resto del carino Veris Mosconi sconfigge il virus però la moglie purtroppo muore dopo un intervento un'odissea di oltre 83 giorni in balia del covid ma quando Veris Mosconi 74 anni architetto per decenni a capo dell'ufficio tecnico del comune di Pesero ha iniziato ad essere ottimista per il suo pieno recupero dopo 20 giorni di coma farmacologico con la tracheotomia l'assenza di energia il timore della morte eccetera eccetera purtroppo è arrivato l'imprevedibile ovvero la moglie Simonetta Franchi 64 anni per un infarto probabile infarto è morto è accaduto mercoledì scorso tutto improvvisamente oggi alle 15 nella chiesa del porto si svolgeranno i funerali Marche Nord intanto si sta preparando per il siero da iniettare a 1800 pazienti persone fragili sono quelli che l'ospedale prevede di immunizzare in questo fine settimana ci sono tre punti vaccinali a muraglia per evitare assembramenti e possiamo dire giustamente ricorda l'abbiamo fatto anche ieri che se c'è una cosa che non manca all'azienda Marche Nord è la voglia di rispondere alle esigenze del suo territorio e l'azienda ospedaliera che tra l'altro qualcuno giustamente scrive il giornale ricorda il giornale vorrebbe rimettere in discussione l'azienda Marche Nord non solo ha registrato le migliori performance per la realizzazione in largo anticipo delle terapie intensive programmate con un certo ritardo da Arcuri ma è stata anche la prima azienda per esempio ad attivare in tutta Italia gli anticorpi monoclonali che è l'unica cura con cui insomma che porta risultati positivi per i malati nel primo periodo di malattia insomma ne ha davvero fatte tante Marche Nord con risultati straordinari ora le forze in campo otto medici per turno altrettanti infermieri undici amministrativi oltre a tutti i coordinatori e fino ad ora sono state vaccinate 8.500 persone tra sanitari forze dell'ordine giudici insomma tutto tutto gestito ovviamente dalla direttrice Capalbo insieme a tutti a tutto l'entourage a tutto il coordinamento dei vari dirigenti amministrativi e quant'altro insomma una bella squadra che sta portando e sta facendo davvero degli ottimi risultati ecco per chi invece dovrà andare che è stato già chiamato ricordo che sono tre punti vaccinali a muraglia uno in medicina nucleare uno nella palazzina dei prelievi del laboratorio analisi e uno nella palazzina della farmacia e della fisiopatologia in modo ovviamente da evitare un eccesso di assembramenti ecco tutti questi tutti questi tutte queste 1800 persone avranno questi tre punti all'interno di muraglia dove poter andarsi a vaccinare trasporto pubblico si sono dimenticati di noi altra manifestazione sotto la prefettura qui siamo ad Ancona ma ad Ancona io ho selezionato questa pagina per farvi vedere questa fotografia e che è un po' una fotografia se vogliamo simbolo questo è un barista che si è messo sopra la sua macchina davanti al suo bar che si chiama Maxi Bar e che si è incatenato e ha iniziato a protestare a gridare basta non voglio morire un comizio ovviamente fatto di rabbia sul tettuccio dell'automobile davanti al suo locale lui dice anzi urla non ce la faccio più non abbiamo ristori non abbiamo i soldi dallo Stato ma solo tasse e bollette da pagare io credo che questo valga per tutti insomma va bene il cartello in piazza e tutto ma questo credo che sia esattamente ci indichi e ci dia un po' l'esatta situazione di come vivono interiormente queste persone sull'anziano morto di freddo invece indaga la procura la magistratura ha aperto un fascicolo per abbandono di incapace per ora a carico ancora a carico di ignoti si aspettano i risultati dell'autopsia la vittima è Antonio Brisigotti di Macerata Feltri aveva 93 anni ed era malato ed era malato di Alzheimer mentre appunto questa magistratura sta aprendo questa inchiesta per capire un po' meglio le cause ponti e viadotti in sicurezza siamo sulla cronaca di Vallefoglia sulla pagina di Vallefoglia del Corriere Adriatico pronti 11 milioni e rotti in tre anni soddisfazione del presidente Paolini e del dirigente Primavera i progetti dicono ci sono già la pagina di Urbino fate tornare il dottor Rossi dal terremoto 2016 al coronavirus la storia dell'artista maceratese Braccialarghe che ha scelto Urbino per rivivere ha scritto all'assessore Salta Martini è andato in pensione ma il suo servizio è fondamentale fino a fine pandemia mentre si sente male ma il bar dell'ospedale a Urbino è inaccessibile un uomo di Fossombroni ieri pomeriggio si è sentito male dopo aver sostenuto un esame invasivo aveva bisogno di bere qualcosa da seduto ma con il bar interno dell'ospedale di Urbino aperto per il solo asporto la situazione ha rischiato di degenerare poi l'altra pagina invece quella di Fano i sindaci difendono l'autonomia di Aset biodigestori insieme o altre decisioni tutti i comuni soci apprezzano la gestione dei servizi collaborazione sugli impianti con la società pesarese tensione tra Rossi e Paolini si allontana la prospettiva dell'aggregazione intanto scuole chiuse perché prive di connessione internet segnalazione del Movimento 5 Stelle per carare cucurano docenti e alunni a Sant'Orso intanto sull'Isippo il sindaco di Fano Seri scrive al governo proposta provocazione di Seri a Draghi e al ministro Franceschini fare dell'atleta di Fano la bandiera del G20 della cultura un'occasione unica per portare al livello diplomatico più alto una vicenda internazionale il primo cittadino sono anche un po' preoccupato per il silenzio degli ultimi tempi dice intanto anche il Corriere se riscrive a Draghi Franceschini fate dell'Isippo un caso mondiale il sindaco s'appella al presidente del consiglio e al ministro in vista del vertice del G20 il 3 maggio a Roma si ritroveranno tutti i responsabili della cultura dei paesi più sviluppati sempre da Fano Corriere Adriatico vaccini più vaccini non più chiusure esercenti ormai allo stremo la delusione di Confcommercio per le misure non realizzate dal governo qui vedete Barbara Marcolini poi sempre dalla pagina di Fano Palazzo Petrucce ed ex Carducci step per il Nolfi Fano città ideale chiede al comune un'azione decisiva sulla provincia Valmetauro invece da Fossombrone fingendosi amico lo deruba e lo ricatta per i documenti gli chiede 100 euro per la restituzione ma all'appuntamento chi trova trova i carabinieri al 18enne il giudice impone gli arresti domiciliari il furto scendendo dall'autobus posti letto covid da 26 a 31 forte pressione il sindaco sull'incremento nel presidio di Fossombrone e dice non abbassiamo la guardia anche il Carlino ha arrestato un senegalese e ruba soldi a un connazionale per riconsegnargli il portafoglio e poi gli chiede un riscatto di 100 euro un vigilo urbano invece è stato colpito da emorragia cerebrale in comune e adesso è in prognosi riservata è successo ieri mattina intorno alle 11 nell'ufficio dei vigili urbani di Acqualagna Maurizio Palanca 60 anni vigilo urbano in servizio per esigenze di lavoro stava conversando al telefono quando si è sentito male subito soccorso dal collega che era con lui levato il 118 l'eleambulanza e adesso è ricoverato in prognosi riservata da Urbino invece l'alleanza con Aspes Spa è una strategia il sindaco Gambini guarda con fiducia la collaborazione tra comuni per i servizi non ho timori sarà un investimento e ancora lo sport in chiusura domani come abbiamo detto c'è il derby calcistico tra Fano e Visse la Visse e anche la colonia degli ex perché dentro la squadra della Visse ce ne sono diversi 4 in Lizia per giocare Gucci di Sabatino Ferrari Germinale che hanno vestito la maglia dell'alma ballottaggio sulle fasce e in attacco ma la difesa ha gli uomini contati sotto invece triste la partitissima in uno stadio vuoto la sfida numero 102 in piena zona rossa e i propositi di mister Tacchinardi di sbloccarla subito cresce l'attesa anche per lui è la prima di sei finali che valgono tutto e non vedo l'ora di giocarla perché sei finali perché nella condizione e nella classifica in cui si trova il Fano chiaramente le prossime sei partite sono considerate un po' tutte delle finalissime quindi se si perde insomma si rischia grosso ma auguriamo ovviamente di vedere per chi la potrà vedere insomma in televisione un bello spettacolo e soprattutto che vinca il migliore ma c'è un altro derby per quanto riguarda Fano anzi due squadre marchigiane Fano e Macerata è un derby un derbissimo di pallavolo tra la Vigilar Fano e la Med Store di Macerata si giocherà domani a Macerata alle ore 18 anche qui il palazzetto sarà chiuso ovviamente al pubblico l'ultimo turno di campionato per la griglia dei playoff Fanesi già sicuri di essere quinti mentre la Med Store è al terzo posto e naturalmente l'obiettivo è quello di consolidare il terzo posto per poi giocare partite sulla carta un po' più semplici perché nella posizione dei terzi chiaramente poi si sfidano le ultime quelle che stanno in fondo alla classifica noi ci fermiamo per ci salutiamo qua appuntamento stasera alle 20.30 con il magazine 7 per occhio lunedì torneremo in diretta invece alle 7 con occhio e giornali grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti.